Andrea Vannucci, anche lui cappellino Fondazione Tomasino Bacciotti perché è un weekend speciale, Andrea si cerca di fare solidarietà, di raccogliere fondi per la Fondazione Tomasino Bacciotti in un torneo, giunto la non edizione, molto importante. Sì, lo sport è al centro, lo sport che si mette a disposizione dello sport, della pallacanestre, si mette a disposizione della solidarietà, della partecipazione con questa bella sinergia tra la Sancat e tante altre società del territorio fiorentino e la Fondazione Tomasino Bacciotti per fare sport, per fare pallacanestre, per sostenere concretamente i progetti casa accoglienza della Fondazione. Quindi sarà un fine settimana tutto da vivere con 24 squadre, 24 società che con gli Aquilotti, mini basket, si danno appuntamento a Firenze, è un torneo che prevede 60 partite su 5 palestre e tutto appunto con un'unica stella polare che è quella di contribuire ai progetti della Fondazione Tomasino Bacciotti. Senti, visto che porta bene, parliamo come al solito anche del basket fiorentino, anche per chi sarà un weekend al di là del torneo Bacciotti importante perché partono tutte anche le partite importanti, quelle che contano, sabato c'è la Fiorentina basket in gara 1 con Moncalieri, domenica la trasferta dell'Enic a Fabriano, cerchiamo di dare alcuni in bocca al lupo ufficiale. Assolutamente in bocca al lupo all'All Foods e all'Enic perché riescano entrambe nella propria impresa, da una parte quella di mantenere la categoria e quindi di superare questa appendice al campionato, che speriamo sia soltanto una fastidiosa appendice e che poi venga superata brillantemente, anche se la formula prevede ancora tanto da soffrire perché al meglio delle 5 partite significa che ancora il traguardo è lontano, però l'importante è partire con il piede giusto e già da sabato sera a San Marcellino c'è la possibilità di partire con il piede giusto, gli scontri diretti del campionato lasciano presagire che la Fiorentina basket, All Foods se la possa giocare con tutte le carte in regola per vincere. Dall'altra parte c'è un in bocca al lupo per l'Enic, per la sua interzona, questo gironcino all'italiana per un percorso che sembra non finire mai, però con la soddisfazione di avere già la mezza categoria superiore, la Cigoldi in saccoccia e l'ambizione evidentemente di andare avanti già dalla prima partita che parte in trasferta, ma insomma durante il campionato ha dimostrato, anche se è una trasferta di Toscana, di potersela giocare anche fuori dal palo coverciano.